Via libera del Consiglio Comunale di Eboli al Consuntivo 2017. A votare il provvedimento approvato nel corso della seduta di martedì sera i soli gruppi di maggioranza. Soddisfatto il sindaco Massimo Cariello. Abbiamo operato per un vero risanamento strutturale in modo da garantire le condizioni per una ripresa reale. Il tutto però garantendo i servizi ai cittadini, pur attenti a razionalizzare le spese per dare meno oneri agli ebolitani. Critiche dal PD, nel cui mirino sono finiti il calo delle entrate e l'aumento dell'indebitamento. Per ogni cittadino ebolitano si legge nella nota dei Democrat il debito pro capite è passato dai 945 euro del 2015 ai 986 del 2017.